Un uomo stende il braccio e l'elefante tocca la sua mano con la proboscide. Un'immagine carica di significato ci giunge dalla Thailandia, con protagonista Pattarapol Maneon, un veterinario del Dipartimento dei Parchi Nazionali, e Plai Tang, un elefante di 31 anni. Ciò che rende quel momento ancora più speciale è il fatto che i due non si vedevano da 12 anni. La loro amicizia ha avuto inizio nel 2009, quando l'animale è stato trovato in difficoltà nelle foreste di Rayong, nell'est della Thailandia, stava soffrendo di tripanosomiasi, una condizione parassitaria potenzialmente letale, nota anche come malattia del sonno, che gli aveva causato febbre, perdita di appetito, gonfiore sul muso, sul collo e sullo stomaco, occhi infiammati, gambe e schiena rigide, e anemia. Quando lo abbiamo trovato, era sull'orlo della morte, racconta il veterinario. Dopo diversi mesi, l'elefante si è ripreso e quindi è stato rimesso in libertà. Nei giorni scorsi, si è verificato un incontro inaspettato. Il dottor Pattarapol Maneon stava pattugliando un'area del parco quando ha udito il distintivo barrito di Plai Tang. I due si sono avvicinati. Il veterinario, mantenendo adeguata distanza, ha steso il braccio quasi per farsi annusare. E l'elefante ha immediatamente dimostrato di riconoscerlo. Ricordo molto bene quel suono, racconta il dottor Pattarapol. Il verso di Plai Tang è davvero unico. Quando ci siamo incontrati per la prima volta, era molto aggressivo. Il suo corpo era debole e non riusciva a competere con gli altri elefanti. Ci è voluto molto tempo per guarirlo, ma abbiamo scoperto che era estremamente intelligente e si prendeva cura di se stesso. Quando ci siamo rincontrati, ci siamo riconosciuti e ci siamo salutati. È stato un momento davvero speciale. Se ti è piaciuta questa storia, metti un mi piace al video e iscriviti al nostro canale. Ti lasciamo con altri due video che potrebbero piacerti. Se anche tu sei un appassionato di animali come noi, ti consigliamo di guardare gli altri video nel nostro canale e di condividere questo video con i tuoi amici. Scrivi anche nei commenti cosa pensi di questa storia. Grazie per aver dedicato il tuo tempo a guardare questo video.